ciao sono francesca di red velvet e oggi per la mia rubrica i consigli di red velvet voglio parlarvi dei differenti tipi di reggiseno e di slip presenti nel nostro sito internet spero che questo vi aiuti oltre a trovare il vostro reggiseno ideale anche a creare il vostro look perfetto scegliendo fra i vari tipi di abbinamenti che proponiamo online il reggiseno semi soft è formato da un sottocoppa preformato non imbottito e un sovracoppa di tessuto normalmente in pizzo le spalline tenderanno ad allargarsi con l'aumentare della taglia per questo il modello semi soft è ideale per sostenere e valorizzare i seni più generosi lo consiglio per donne dalla terza in su reggiseni a balconcino e balconette i reggiseni a balconcino e balconette hanno un taglio leggermente più basso nella parte frontale e dei ferretti posti a tre questo aiuta ad esaltare i decoltè e sono suggeriti per taglie dalla seconda alla quarta possono avere coppe completamente in pizzo come in questo caso o coppe imbottite le spalline sono removibili in modo da poter utilizzare la balconette a fascia il push up è una variante del reggiseno a balconcino il vantaggio è una scollatura decisamente mozzafiato ideato e pensato per taglie dalla prima alla quarta massimo i ferretti sostenitori introdotti nelle coppe ravvicinate tra loro sollevano il seno dando almeno una taglia in più grazie a imbottiture permanente o a lunette estraibili che risultano utili per aggiungere eventualmente un'ulteriore imbottitura le spalline sono removibili per permettere di indossare il reggiseno anche a fascia il reggiseno preformato o full cap a coppe già sagomate con un'incisione interna a t questo aiuta a sostenere la forma del seno arrotondandola ed alzandola per questo motivo è perfetto per taglie dalla quarta in su i perizomi in vendita su red velvet sono impreziositi da pizzi nella parte posteriore non hanno una scollatura troppo profonda e hanno sempre qualche dettaglio a caratterizzarli lo slip tradizionale è sicuramente adatto a tutte le taglie e a tutte le età molto spesso lo slip tradizionale nasconde dei preziosi dettagli gli shorts sono un'alternativa comoda e femminile allo slip hanno un taglio basso e sono spesso arricchiti da pizzi e da ricami nella parte posteriore possiamo notare la loro scollatura e il ricamo a pizzo con dettagli gli shorts sono anche comunemente chiamati culotte lo slip a vita alta in preziosito di pizzo è ideale per chi deve nascondere un pochino di pancetta le bande laterali aiutano a sostenere al massimo la zona del fianco è uno slip che è tornato molto di moda e da sapore sicuramente vintage tutti i modelli che avete visto in questo video sono in vendita sul nostro sito internet www.redvelvet.it vi ricordo di seguirci anche sulla nostra pagina facebook red velvet lingerie e di iscrivervi al nostro canale youtube red velvet lingerie se avete qualsiasi domanda o dubbio potete scrivermi a info chiocciola red velvet.it ciao e alla prossima puntata